Radio Ucifocus Si ricorda infine che i lavoratori domestici sono obbligati ad effettuare il versamento dei contributi. Pertanto le prossime scadenze sono dal primo al 10 luglio per il secondo trimestre, dal primo al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal primo al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre. E da Giulia Cassone è tutto, al prossimo Focus.